Salve a tutti amici di Kip2Jam e benvenuti a un nuovo video, oggi andiamo a parlare di un progetto che più volte durante le live avevo chiamato come un progetto che secondo me era un possibile 100x, ovviamente ce l'avevamo anche nel nostro wallet 100x chiamato più volte. Abbiamo fatto un'altra chiamata mercoledì, oggi andiamo a vedere un po' che cos'è questo AllSwap e ovviamente c'è un altro progetto che a me interessa molto e che secondo me potrebbe essere il prossimo diciamo 100x e che andrò a spiegare poi verso la fine del video. Intanto sono andato a vedere un po' il white paper, giusto per riuscire a spiegarvi le cose, ho preso un po' di appunti e quindi andremo a vedere insieme e poi andremo a vedere anche il chart. Intanto AllSwap andiamo a vedere più o meno la Tokonomic, allora come vedete in questo momento si trova 44 milioni di market cap quindi ancora molto giovane e vi farò vedere perché ancora ha delle grandi possibilità. Andiamo a vedere anche su alcuni dell'exchange in cui è listato quindi vediamo che in questo momento non è su grossissimi exchange però abbiamo comunque Bigjet che non è piccolissimo, Bitmart, Max e abbiamo altri che l'hanno listato al momento. Quindi non abbiamo tipo Binance o altri grossi come Coinbase però comunque sta diciamo si sta facendo vedere su alcuni decentralized exchange. Il sito se andiamo a vedere in questo momento come vedete praticamente questo token si trova sulla BRC20 quindi ovviamente come sapete c'è la narrativa del defi su Bitcoin per questo bull market e quindi questa è una delle cose che insieme alle AI farà anche molto bene. Quindi abbiamo il defi su Bitcoin insieme alle AI sono due narrative molto forti e quindi sul quale mi sto esponendo moltissimo. In questo momento sono estremamente esposto su questo token vi farò vedere anche le prime chiamate e tutto quello che abbiamo fatto però intanto andiamo a parlare un po' di che cos'è esattamente. Allora qua dicono e questo è riportato quindi sono alcune delle informazioni che potete trovare qua quindi se andate sul sito e andate in documentazioni potete andare a leggere però ovviamente ho abbreviato poi parleremo anche della Tokonomic. Allora qua dice che il protocollo rivoluzionario che sta trasformando il trading di criptovalute su Bitcoin quindi ovviamente come detto trading, swap, defi e ci sono anche non so liquidity provider, bridging, tutte queste cose su Bitcoin. Orswap integra la gestione off-chain e la tokenizzazione di BRC20 permettendo scambi diretti sul layer nativo Bitcoin con sicurezza ed efficienza. Lo standard BRC20 è Orswap che consente la creazione e lo scambio di token fungibili ampliando la possibilità di trading, integrazione e applicazione decentralizzate. Automatic Market Mayor AMA. Il cuore di Orswap è la Automated Market Maker che consente scambi senza fiducia quindi un trust tra una vasta gamma di asset mettendo la sicurezza e l'integrità di Bitcoin. Senza fiducia ovviamente vuol dire che non hai bisogno di fidarti di un terzo quindi non hai bisogno di dare fiducia a qualcuno quindi a un exchange o a qualcosa quindi diretto perché sembra senza fiducia senza che non ti fidi. Architettura modulare. Con un'architettura modulare Orswap gestisce flessibilità e scalabilità facilitando l'integrazione di nuove funzionalità e il miglioramento continuo del protocollo. Stati di bilancio off-chain. Gli stati di bilancio off-chain di Orswap riducono i costi e i tempi di transizioni promuovendo un'esperienza utente fluida e decentralizzata. Oracle sintetico. L'innovazione Oracle sintetico di Orswap fornisce dati affidabili sui prezzi cruciali per la decisione di trading informativo sicurezze. Indicizzazione API. Indicizzazione efficiente dell'API robusta supporta l'interazione rapida affidabile con la blockchain di Bitcoin e infrastruttura. Orswap sperimenta la prossima generazione di finanza decentralizzata su Bitcoin con una piattaforma sicura e trasparente e all'avanguardia. Quindi questi sono i punti più o meno di cui parlano. Qui ovviamente qua vanno un po' più nei dettagli però diciamo che a livello di informativo questo è l'obiettivo cioè cos'è Orswap. Quindi avete capito che cosa è esattamente. Allora come vedete il total supply al momento è di un miliardo e come vedete questa è la distribuzione. Abbiamo avuto comunque il T ma in questo momento cosa è comunque a un 10% in questa cosa. Treasure 10%, reward 15%, initial liquidity 2%, public sale 15%, private sale 10%, seed 5%, liquidity 10% e sec liquidity 10%. Quindi come vedete il lato economic è abbastanza salutare non ci sono tipo cose assurde nel lato economic e ci sta. Quindi andiamo a vedere un po' il sito in questo momento. Come vedete questa è l'applicazione dove potete fare le cose quindi come vediamo il total value lock quindi TVL vuol dire total value lock. In questo momento è ancora 105 mila dollari quindi non tantissimo al momento. Quindi come vedete in questo momento i volumi stanno crescendo ma è ancora molto piccolo quindi per liquidità qui potete fare gli scambi vedete qua liquidity con altri token sempre sulla BRC20. Ci abbiamo la pool, ci abbiamo anche earn che ancora non è arrivato e poi ci sono i launchpad quindi anche i launchpad coming soon. Quindi ci sono un sacco di cose che devono ancora arrivare. Potete fare già il bridging, gli swap e la liquidity però ci sono ancora un sacco di cose che devono arrivare quindi in verità è molto molto giovane come progetto. Quindi fatemi sapere nei progetti cosa ne pensate, cosa pensate del defi su bitcoin se è una cosa fattibile ed è una cosa che potrebbe piacere diciamo per il prossimo bull market. Allora intanto andiamo a vedere un po' di cose. Intanto c'è stato il delirio dentro la community immagino perché è un po' che chiamo questo progetto quindi c'è stato un po' di delirio dentro la community. Perché veramente questa settimana pensavo sarebbe stata una settimana tranquilla invece abbiamo visto comunque i token fare pump veramente assurdi. E come vedete questa è stata la seconda chiamata perché la prima avevo preso il 07 poi è andato giù nel supporto ho chiamato la seconda chiamata intorno ai 005 e poi qualche giorno fa ho fatto un'altra chiamata che era mi pare ancora buona era il 21 era giusto mercoledì. E quindi vi farò vedere le due chiamate che abbiamo fatto ovviamente e come vedete le chiamate sono molto molto oneste in senso sto comprando è ancora buono penso di entrare. Queste sono le due chiamate quindi dalla prima chiamata siamo circa un 340 per cento la seconda chiamata un 260 passa per cento vedete questo è il massimo che è toccato che era il 027. Quindi zona di accumulo abbiamo avuto una zona di accumulo pazzesca in quest'area quindi se andiamo a vedere in quest'area fatemi cancellare qui e qui e fatemi mettere anche il certo è un po' più grande. Allora come vedete qua abbiamo avuto una zona di accumulo io ne parlo spesso ho parlato anche nelle live quindi andate a seguire le mie live quando le faccio ragazzi e mettete il campanellino così ci vedete anche le info perché nelle live io faccio vedere questi progetti. Nelle ultime live ho parlato di AllSwap e che ero anche isposto in maniera un po' più aggressiva su questo. Come vedete qua c'è stato ovviamente il classico Wycroft accumulation phase abbiamo avuto due prese di liquidità dall'alto qua ci sono stati i sell qua probabilmente la gente che l'ha già piazzata prima. Quindi Take Profit però mantiene la zona qua abbiamo avuto una presa di liquidità pazzesca con un ingolfing infatti guardate i volumi di ripresa quindi abbiamo una V recovery e questa solitamente è una situazione di accumulo e come vedete accumulo accumulo a un certo punto arriva e esplode. Ha fatto anche sta flag qua dove ho chiamato che era ancora buono quindi ha fatto una piccola flag per poi iniziare la sua ripresa verso l'alto. Quindi dove sto puntando in questo momento? In questo momento ho preso un po' dei profitti ovviamente io prendo sempre un po' dei profitti perché come ho già spiegato per me è un lavoro e non posso holdare a vita tutto però ho ancora un 70% delle mie allocazioni ho preso solo un 30% e l'ho messo in Orange A. Orange A come vedete ovviamente vabbè adesso vi posso assicurare che prima di fare questo video non stava pampando così comunque a Orange A abbiamo un punto di entrata ancora molto vicino quindi come vedete ha appena rotto la struttura appena rotto la struttura in questo momento e come vedete io c'è un allarmino qua perché questo è il punto di interesse dove una volta rotto mi aspetto che cominci a pampare. Perché metto il punto di interesse qua? Perché poi vado a seguire quello che succede perché ovviamente non voglio perdermi metto gli ordini se arriva per esempio qua poi fa un pullback non voglio perdermi quindi una volta che si stabilisce sopra quest'area voglio cominciare a piazzare le mie posizioni qua. Quindi Orange A è uno dei miei prossimi diciamo progetti su cui voglio speculare ancora molto piccolo anche questo e ancora un sacco di possibilità per crescita quindi dateli un'occhiata ovviamente ragazzi non buttatevi sulle cose solo perché CryptoGiamma ha detto di comprare una cosa però ovviamente io qua faccio tutto live e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate soprattutto di Orswap ok? Intanto come vedete qua proprio in live mentre stiamo parlando c'è anche una head and shoulder che si è creata ovviamente non ha un target larghissimo cioè come penso che il target all'inizio arriverà verso i 0.5 e 0.7 per poi retrocedere. Comunque dateli un'occhiata anche a questo progetto abbiamo un sacco di progetti 100x comunque che stanno pampando in maniera fuori di testa e abbiamo deciso anche con Matteo anche Matteo adesso ne ha dato uno ieri che ha fatto un 150% Comunque abbiamo deciso anche di creare un servizio diciamo separato in senso comunque sarà sempre integrato alla community ma che si focalizza soprattutto sulle 100x che veramente avrà un entry un po' più facilitato Fatemi sapere se questa è una cosa che vi interessa puntare solo sulle 100x ovviamente molto più speculativo però ovviamente noi facciamo un lavoro di filtraggio dietro e soprattutto di analisi tecnica perché una delle cose che mi piace fare questa prima è trovare il progetto interessante quindi capire un po' il sentiment che c'è dietro C'è una logica dietro quando chiamo un progetto solitamente non lo faccio in maniera casuale dico solo questo mi piace sono due cose che io faccio prima di tutto analizzo il progetto e vedo se il progetto è un progetto serio o un progetto solo da FOMO in entrambi i casi mi interessa non è che se è solo da FOMO allora non mi interessa Seconda cosa capisco quanto impegno c'è da parte del team e come si stanno muovendo dal punto di vista anche di marketizzare la cosa ok Ovviamente mi assicuro che non sia uno scam più di tutto e che davanti sia uno scam può anche essere un buon progetto ma sia uno scam uno scam Seconda cosa vado a vedere il chart se vedo il chart che è già dei pump pazzeschi comincio ad aspettare una zona anche di accumulo ok non una zona dove per esempio ha già pumpato al 100% E Orswap una delle cose per cui ho puntato molto su questo è perché è stato un progetto buono su una narrativa ottima che è quella del DeFi di BTC quindi la narrativa mi piaceva Il team si impegnava un sacco di partner infatti adesso andiamo a vedere anche qui se andiamo a vedere per esempio i partner potete vedere qua giù Ci sono tutti i partner con cui praticamente fatemi un attimo allargare qua loro stanno lavorando in questo momento quindi stanno crescendo i loro partner stanno crescendo il loro Il loro diciamo sito la loro liquidity sta crescendo tutto questo piano piano sta crescendo Arriverà magari al bull market che questo potrebbe esplodere arrivare anche non so a 500 milioni di market cap O magari a 300 milioni di market cap Di fatto in questo momento è puntato abbastanza bene per quanto riguarda l'auto economic quindi ovviamente ragazzi fate tutto con la testa Non andate all in e niente dateci un'occhiata prima trovate il white paper qua trovate il website e trovate anche il loro twitter Il loro twitter è importante perché è lì dove loro fanno tutti gli annunci quindi questa è un'altra delle cose che io valuto Io vado a guardare il loro twitter me lo spulcio un po' ovviamente non sto lì a scrivere tutte le cose che guardo Perché ovviamente faccio poi delle mie considerazioni tra meme basate sulla mia esperienza negli ultimi anni su nelle criptovalute Nelle cose più speculative vado a vedere come vedete comunque postano un sacco fanno vedere cosa stanno facendo Gli upgrade la liquidità che viene messa i partnership tutte ste cose quindi ottimo andate a ve le leggere ovviamente non varo una per una dei post Ci sono andato già prima di iniziare ad investire però come vedete qua loro fanno vedere tutto e secondo me è uno dei progetti che potrebbe arrivare anche su Binance Nei prossimi mesi Comunque spero vi sia piaciuto questo veloce video su Orswap fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ovviamente iscrivetevi al video se vi interessa Passatelo a un amico se vi interessa e ci vediamo nel prossimo